ciao a tutti e bentornati a pillole di storia io sono ikudo e questa è la biblioteca di alessandria chi mi segue da un po di più o si è recuperato le mie vecchie pillole sa che ogni tanto mi piace parlare bene o male vedremo di film storici analizzandoli non solo dal punto di vista del film in sé se è un bel film si fa vedere ci sono dei problemi ma soprattutto dato che questa dopo tutto è una pillola di storia non una pillola di cinema se è un film storicamente ben fatto plausibile irrealistico o con dei problemi ora se andate a vedere una qualunque di quelle puntate di quelle pillole dedicate ai film sotto troverete sempre almeno un commento che mi chiede di recensire un film in particolare che non ho mai recensito in quasi 400 pillole e che arrivo già a recensire come avete visto dal titolo quel film è il gladiatore di ridley scott la prima domanda è perché non ho mai recensito questo film non mi piace in effetti non è esattamente un film che mi fa impazzire ora starò sincero ci sono delle scene in quel film che non possono non piacere farò spoiler tanto immagino che l'avrete visto tutti inutile che ne stiamo a dividere in una parte spoiler non spoiler un film vecchio assolutamente di cultura generale detto questo ci sono delle scene che non possono non piacere cioè la scena del combattimento iniziale della battaglia iniziale è troppo bella pur avendo dei problemi dal punto di vista della storicità giganteschi di cui tra poco parleremo ma è una scena troppo bella da vedere perché non possa piacere e poi ci sono i combattimenti nell'arena e poi ci sono dei dialoghi ganassa fatti apposta per essere citati tirare fuori il tamarro dentro ognuno di noi e insomma è uno di quei film che francamente non può proprio fare completamente schifo insomma non è barbarossa questo diciamolo chiaramente però è un film che secondo me anche dal punto di vista filmico ha delle pecche ha delle parti un po lunghe dei dialoghi che ogni tanto non finiscono più e che non vogliono dire nulla dei personaggi che secondo me sono un po tagliati con l'accetta persino comodo che ha un ottimo attore a interpretarlo e poteva essere un personaggio molto interessante secondo me non ne vuole nulla è un pazzo psicopatico ragazzino che rimane tale dall'inizio alla fine e anche la motivazione dell'impazzire legata al fatto di essere legato al padre che lo rifiuta è secondo me un pochettino tirata ma al netto di questo inoltre insomma è un film che non mi ha fatto eccessivamente impazzire ma che bisogna riconoscere essere un film assolutamente epocale ora chi dice che dal gladiatore in poi sono tornati in auge i film storici con una serie di film poi negli anni successivi ad esempio master and commander che non è proprio esattamente storico ispirato una serie di libri ma che in effetti ha nell'ambito storico il suo alveo in realtà sbaglia perché non è dal gladiatore che riprende un pochettino questo periodo ma se vogliamo potrebbe essere da qualche anno prima cioè da brave art nel 1996 che in effetti fa riprendere questo genere ma è innegabile che dal gladiatore in poi quel genere vecchio degli anni 50 60 dei peplum quindi di queste storie ambientate al tempo dell'impero romano un pochettino risale in auge ora se andiamo a vedere uno di quei film degli anni 50 e 60 hanno due problemi il primo problema è che sono storicamente del tutto implausibili all'epoca pensare che ci fossero dei tecnici che o degli storici che curavano questi film scegliendo abbigliamento modi di combattere di parlare di appellarsi è assolutamente impossibile e i film lo dimostrano in tutto per tutto era già tanto se gli attori non tenevano l'orologio mentre recitavano dall'altra parte il problema è che questi film hanno creato nell'immaginario degli spettatori che non conoscono la storia un mondo romano filmico che ormai è diventato quasi reale per gli spettatori quanto quello che viene raccontato dagli storici ed è questo problema secondo me si riflette molto nel gladiatore che ha sì delle parti che sono storiche storicamente plausibili mettiamo così tra poco ne parleremo ma anche tante parti che non sono per niente plausibili dal punto di vista storico ma che sono esattamente quello che uno spettatore di film dell'antica Roma si aspetta di vedere tra tutti ad esempio il famoso saluto ave cesar morituri te salutan che è assolutamente irreale rispetto alla storia reale ma è quello che abbiamo visto recitare in tantissimi film che già vedevano i nostri nondi ambientati nell'antica Roma ed è esattamente quello che chiunque si poteva aspettare insomma un film che secondo me dal punto di vista storico è esattamente a metà del guado però ci sono frasi tamarre e molto effetto e questo basta è avarita dal punto di vista storico se vogliamo analizzarlo si può provare a farlo su più punti la prima cosa che dovremmo analizzare probabilmente è la struttura della storia generale ora qui secondo me si alternano realismo storico, plausibilità storica personaggi completamente inventati ed errori che sono funzionali alla trama tra poco ne parleremo ed errori che non hanno nessun motivo di esistere che francamente sono quelli che mi danno più fastidio perché se ti avvali di consulenti che ti danno delle possibilità realistiche e decidi di non sfruttarle non perché ne hai bisogno per la trama ma perché hai deciso così ecco quello secondo me è uno spreco di risorsa a questo punto non chiamare dei consulenti e inventati tu i nomi va bene uguale e così se ad esempio Marco Aurelio è reale, è realistico che sia morto sulle frontiere settentrionali dell'impero combattendo e questo viene raccontato dagli storici dell'epoca in effetti non è morto ucciso da Commodo come viene mostrato nel film ma è morto a causa della peste Antonino un'epidemia peraltro probabilmente non di peste che arrivò in occidente proprio in quegli anni probabilmente peraltro portata dalle legioni che Marco Aurelio aveva richiamato dalla Siria per combattere a suo fianco in Germania però ovviamente ci sta perché Commodo deve uccidere Marco Aurelio per la storia del film altri personaggi come detto sono reali ad esempio Lucilla che era veramente sorella di Commodo e che aveva veramente un figlio in realtà ne aveva più di uno e che realmente complottò contro il fratello ma che nella realtà venne uccisa venne prima imprigionata e poi fatta uccidere Commodo probabilmente è quello che ha subito qualche cambiamento in più ora come vi ho detto prima la sua figura in effetti è molto oscura per la storiografia romana viene raccontato come un pessimo imperatore e probabilmente anche una pessima persona è vero secondo quanto raccontano alcuni storici che combattesse nell'arena probabilmente anche dei combattimenti finti con un avversario armato di una spada di legno ed è vero che fu ucciso da un gladiatore non nell'arena però ma in casa sua perché il suo addestratore preparatore nei giochi dell'arena lo uccise mentre si trovava in bagno ma non dopo pochi mesi di regno come si vede nel film ma bensì dopo 12 anni di regno e poi c'è la figura ovviamente di Massimo Massimo a parte avere un nome sboronissimo Massimo X Meridio è una figura ispirata a tante figure storiche qualcuno ci vede dei rimandi a Spartaco che secondo me sono un po' tirati dopo tutto la storia di Spartaco è ben conosciuta ed è decisamente più antica di quella raccontata nel film secondo altri invece sarebbe Claudio Pompeiano che era il marito di Lucilla un ottimo generale che peraltro non partecipò alle congiure controcomodo tanto da rimanere al potere e a cui più volte venne offerta la possibilità di diventare imperatore e più volte rifiutò insomma una figura complessa che però è realistico che sia stata inventata perché d'altronde è il protagonista dove secondo me invece dal punto di vista dell'ambientazione generale poi realizzeremo le due scene principali cioè la battaglia e i giochi gladiatori ma il dove realmente secondo me c'è un grosso problema è nella ricostruzione degli ambienti dal punto di vista delle costruzioni per quanto ci siano delle immagini visivamente molto belle ancora oggi immaginatevi quanto potevano essere bene nel 2000 ci sono anche degli errori assolutamente pacchiani nella visuale a nido a volo d'uccello che si vede nella città di Roma ci sono monumenti che ancora non erano costruiti laghi che invece erano già stati prosciugati dimensioni sballate dei monumenti addirittura qualcuno dice che il Tevere sia stato messo in posizione errata ma questo non lo devo essere sincero non riesco a capirlo direttamente insomma ci sono degli errori assolutamente pacchiani per una mega produzione che probabilmente ha pagato anche parecchi soldi per quella ricostruzione e poi ci sono delle scelte che sono tipo ad esempio quando Massimo va a combattere in Africa compare scritto che combatte nella provincia di Zuccabar ma che nome è provincia di Zuccabar ma con tutte le province romane in Africa che c'erano tra cui la provincia d'Africa non potevano scegliere un altro nome uno qualunque però devi scegliere Zuccabar che non è il nome di una provincia è il nome di una cittadina non tanto grande ma che peraltro in italiano fa anche abbastanza ridere ma nessuno gli è andato a dire quanto sembrasse sembra veramente preso da un film comico un nome del genere e non è assolutamente necessario poteva essere scelto, ripeto un altro nome qualunque altri problemi e sono evidenti ci sono nel vestiario sia nel vestiario civile con teli bandane arrotolate monili assolutamente molto poco realistici ma soprattutto nel vestiario militare si vede nella battaglia si vede durante tutto il corso nel film i militari indossano un coacervo di armature che provengono da epoche diverse hanno degli elmi che alle volte sembrano usciti da dei fantasy tanto sono grossi ed elaborati hanno dei frege negli ornamenti che non hanno nessun senso e che danno peraltro ogni tanto secondo me un po' quell'effetto xina principessa guerriera di plastica cioè di armature fatte di plastica e poi ci sono scelte che visivamente possono pagare come ad esempio il fatto di fare i pretoriani vestiti di viola ma che sono irrealistiche tantomeno se ai pretoriani viene fornita un'armatura diversa rispetto a quelle del resto dell'esercito cosa che invece ovviamente non avveniva i pretoriani avevano delle armi identiche a quelle degli altri soldati solo a volte con dei fregi e degli abbellimenti che appunto li rendessero rendessero evidente il loro status e anche questo è anche ovvio la loro ricchezza se invece andiamo ad analizzare le due scene più interessanti cioè come già detto quella della battaglia e quella dei giochi gladiatori anche qui abbiamo qualche problemino partiamo dalla battaglia come ho già detto all'inizio la battaglia è spettacolare veramente molto 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 bella da vedere ma anche alla prima visione facciamo alla seconda perché alla prima si è presi a fare ci siamo capiti anche alla seconda visione si può notare come ci sono delle cose che anche senza saperne di storia sembrano assurde ad esempio all'inizio quell'attacco enorme delle armi d'assedio con tanto di balliste catapulte che lanciano armi infuocate che peraltro esplodono come se ci fosse della polvere da sparo che è assolutamente irrealistico ovviamente le armi d'assedio venivano utilizzate negli assedi al limite non durante le battaglie in campo aperto questo è realistico è realistico come abbiamo già detto dei soldati i romani combattono in un modo assolutamente non da romano vediamo infatti ad esempio i soldati di uno degli errori più pacchiani che invece di lanciare i loro pilum e lanciarli come un'arma da lancio li utilizzano come una lancia e quindi rimangono lì pronti a reggere l'assalto dei germani che arrivano questo per quanto visivamente bello è secondo me ispirato a quel famoso Breivar che se vi ricordate ci ha messo a tutti in testa che tutto si ferma con una lancia in race con la lancia spiantata compresi cavalli i cavalieri tutto quello che arriva è ovviamente irrealistico ed è in un realismo secondo me strano perché siamo abituati a pensare ai romani che combattono con le loro spade corte protetti dallo scudo e invece quali vediamo combattere quasi come se fossimo nelle 1500 e avessimo davanti dei lanzichenecchi non so dire il perché di questa scelta ma tant'è un altro problema dell'esercito romano sono i cavalli perché lo si vede abbastanza chiaramente nelle scene i cavalli portano anche le staffe cioè quel punto dove i cavalieri mettono i piedi cosa che all'epoca romana non esisteva ma che probabilmente è stata inserita per motivi di sicurezza degli star ma ne era troppo difficile imparare ad andare in sella senza le staffe c'è da dire che avrei magari evitato di inquadrarlo nelle scene ma queste sono scelte loro vi lascio una curiosità sempre sui romani c'è una frase epica che tutti conosciamo al mio segnale scatenate l'inferno che alcuni dicono essere un errore ma perché viene citato l'inferno da un pagano in realtà è un errore della traduzione italiana perché nell'originale lui dice al mio segnale scatenate i cani e sono stati doppiatore italiani a decidere di dire al mio segnale scatenate l'inferno per rendere il tutto un pochettino più epico anche la scelta la scelta dei cani invece ovviamente è realistica perché i romani in effetti utilizzavano molto spesso dei cani in battaglia anche i loro avversari sono in effetti molto filmici e poco reali i germani non combattevano mezzi nudi non erano un popolo appena uscito dal neolitico che combatteva con le lance e le asce di pietra erano un popolo evoluto certo non a livello dei romani ma che comunque avevano un armamentario e un esercito in grado di combattere una delle poche cose realmente realistiche della battaglia è quell'urlo che i germani lanciano prima dello scontro che veniva chiamato barritus e che secondo alcuni era decisamente terrorizzante quando ci si trovava pronti all'assalto insomma una battaglia bella ma poco realistica e che perde secondo me delle altre occasioni ad esempio non mostra per nulla la grande capacità dell'esercito romano soprattutto in questo periodo di mutare la sua formazione rimanendo sempre coperta durante gli scontri anzi ad un certo punto nello scontro la formazione romana quasi volutamente si rompe e inizia una serie di scontri corpo a corpo assolutamente irrealistica perché la forza delle legioni era proprio la capacità di rimanere compatte contro un avversario meno addestrato meno pronto a uno scontro come potevano essere appunto i popoli baberi e in questo momento l'esercito romano aveva ancora tutte le capacità di farlo ripeto una battaglia molto bella molto spettacolare ma con tanti problemi dal punto di vista storico e poi ci sono i giochi gladiatori ora anche qua ci sono tanti problemi ma una delle poche cose realistiche è quella che a prima vista sembra la più folle cioè il fatto che venissero organizzati dei giganteschi giochi con così tanti gladiatori e soprattutto così elaborati dal punto di vista della costruzione dello scenario lo vediamo vediamo la ricostruzione fittizia di una battaglia con dei carri delle lance delle spade tutto e tanti gladiatori per poter combattere beh questo in realtà è addirittura irrealistico perché poco sviluppato perché sappiamo che i romani organizzavano i giochi gladiatori ancora più grandiosi tra cui ad esempio ne ho parlato nella seconda pillola di storia i famosi giochi in cui addirittura erano in grado di coprire con uno specchio d'acqua le loro arene e di far combattere delle navi quindi ovviamente in realtà erano in grado di organizzare dei giochi veramente molto grandi con tanti gladiatori ancora più di quanto si veda nel film tutto il resto però è obiettivamente molto poco realistico e tanto filmico ad esempio il fatto che ci sia una mescolanza tra i giochi gladiatori e i giochi con le belve le cosiddette venazioni in realtà tutto questo non è reale perché sappiamo che invece i giochi tendevano a essere separati addirittura nel tempo con i giochi gladiatori tra i gladiatori gli scontri gladiatori che avvenivano in una parte della giornata e gli scontri con le belve che spesso avvenivano in un'altra fase è anche poco realistico che in questo scontro venissero usate delle tigri che venivano da tanto lontano quando invece sappiamo che i romani usavano molto spesso i leoni che all'epoca vivevano in Nordafrica e che probabilmente fecero anche estinguere continuando a cacciarli per i loro giochi è poco realistico e tanto filmico il fatto che così tanti gladiatori muoiano perché in realtà i gladiatori tendenzialmente sopravvivevano anche perché erano la ricchezza di chi li possedeva è poco realistico il fatto che l'imperatore decida per la morte di qualcuno abbassando il dito quando invece sappiamo che il segno era questo tra l'altro segno sopravvissuto ed era una cosa che anche in questo caso l'imperatore faceva molto raramente di solito il sopravvissuto il gladiatore sconfitto veniva graziato anche perché costava ucciderlo e anzi lo si uccideva quasi solo se era già per le ferite che aveva subito prossimo alla morte lui stesso esponeva il petto per farsi uccidere e poi in una scena verso l'inizio viene citato il fatto che sotto Marco Aurelio questi giochi gladiatori fossero stati vietati non è vero non è assolutamente vero i giochi gladiatori non erano assolutamente vietati sotto Marco Aurelio e quindi è una modernizzazione del pensiero antico assolutamente non necessaria il grosso problema del film visto che ci arriviamo a parlarne però secondo me è proprio questo e lo si vede tantissimo nel finale l'idea e Scott come spesso fa in tanti suoi film prende una vicenda storica e poi trasporta la morale il modo di pensare il modo di vedere il mondo dei suoi personaggi direttamente ai giorni nostri Massimo crede nella Repubblica Romana siamo nel 180 d.C crede ancora nella Repubblica Romana che non ha conosciuto lui e non hanno conosciuto i suoi antenati per tante generazioni si parla di un ritorno alla democrazia ma quale democrazia la Repubblica Romana era un'oligarchia non è praticamente mai stata democratica Roma con l'idea che abbiamo oggi di democrazia o con l'idea che potevano avere i greci e tutto questo si ribalta poi nel finale con questo buonismo in cui con la morte di Commodo viene restaurata la Repubblica e Roma torna a splendere ma no non è successo non succederà mai non era neanche pensabile che succedesse allora perché una cosa del genere perché ripeto a mio parere il grosso problema di questo film è il voler fare un film storico raccontando il mondo di oggi lo abbiamo visto con Le Crociate lo abbiamo visto con Alexander che è peraltro di un altro autore ma questo a mio parere rimane uno dei problemi di questo gruppo di film storici utilizzare la storia per raccontare il mondo di oggi con il risultato di fare un qualcosa che è a metà tra i due e di cui l'unica cosa di cui ci si ricorderà nel tempo è la spettacolarità delle scene la spettacolarità di alcuni dialoghi la spettacolarità di alcune scelte di trama ma tutto il resto del discorso finirà per cadere nel dimenticatoio io vi fermo qua ditemi voi cosa ne pensate del gladiatore se siete d'accordo con la mia visione o pensate che sia un film bellissimo e io sia uno che non ne capisce niente di cinema che è anche un'ottima risposta e per il resto io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di metterne le loro opere e se volete iniziare a curiosare qui a fianco c'è l'elenco delle video uscite fino adesso e in descrizione vorrei fare invece una playlist con tutte le mie recensioni storiche la trovate in descrizione a presto ciao ciao